Buongiorno a tutti quanti, benvenuti, oggi è venerdì 20 aprile, 7.30, analisi live intraday con il rilascio dei livelli chiave di prezzi ciclici dei mercati forex, indici e commodity. Partiamo con il disclaimer, gli investimenti con scambio a margine comportano notevoli rischi economici e chiunque li svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Pertanto l'autore della presente videoanalisi non si assume di nessuna responsabilità circa eventuali danni diretti e indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Sono Paolo Pisino, sono il fondatore del sito www.tradingpertutti.com Veniamo al calendario economico, questa notte abbiamo avuto dati in Giappone, sostanzialmente rimasti sommati invariati, leggermente negativi per questo c'è stato, io si è incrementato, avremo questa mattina alle 8 l'indice tedesco dei prezzi di produzione, scusate quando arrivo non si può fare nulla, in le discorse del membro dell'MPC della BOE alle 11.30, il discorso del presidente della Bundesbank alle 13.30, quindi giornata mica tranquilla. E poi abbiamo il pomeriggio, chiaramente Made in USA e Canada, in questo caso con l'indice dei principali prezzi del consumo per quanto riguarda il Canada alle 14.30, inclusi le vendite generali al dettaglio, quindi attenzione al canadese. E poi abbiamo, chiudiamo la settimana sostanzialmente con un membro della Fonk Williams alle 17.15, sostanzialmente a fare attenzione, ok? A lavorare sicuramente. Veniamo a noi, Euro-Dollaro, Euro-Dollaro da un punto di vista livelli sono molto semplici, interessanti, io mi sposterei qui, quindi tanta attenzione perché ci sono un po' di falsi breakout, però l'1.23.34 secondo me è un livello interessante, devo andare a cercare l'indicazione al ribasso, tanto do il benvenuto al Franco Altiziano e anche all'Andrea che sta guardando se è lui su Facebook. 1.23.46 invece per quanto riguarda la possibilità di prendere l'operazione del rialzo. GBP-USD dopo il scivolone di ieri, scivolone qua previsto in piedi, in realtà lo short no, perché il long era da prendere qua, però abbiamo già Euro-Dollaro, non me ne sono sentite di prendere anche GBP che avrebbe dato tra l'altro profitto, però questo lo avrei preso sui denti, meno male perché mai più sarà entrato long qui. Mi è stato uno scivolone che non ho ben capito. 1.40.63 secondo me è un livello interessante, devo andare a cercare occasioni al ribasso, occasioni al ribasso, invece occasioni al rialzo, di andare a cercare, poi con la rotura di 1.40.99. Euro-GDP, ovviamente è esattamente l'immagine speculare di GBP-USD, Euro-GDP, interessante, sembrerebbe già vederlo, quindi qui c'è un'informazione che teoricamente non dovrebbe essere data, vabbè fa niente, 0.87.57 per uno short, e invece per quanto riguarda un rialzo sarà 0.87.70, un buon livello dove andare a cercare appunto occasioni al rialzo. Devo vedere il crude oil, crude oil sta rispondendo millimetricamente, reale, non riuscivo a dirlo, alla conformazione C, quindi lo storno qua l'abbiamo avuto, probabilmente questo sarà un ciclo leggermente più ampio, chiaramente un po' di varianza ci può essere, prendiamoci da qua. Rimarrà buono questo livello, sotto la quale secondo me operazioni a ribasso se si potrebbero andare a cercare, operazioni invece a rialzo, qui non è male la situazione, quindi 68.50 per un rialzo, per un ribasso 67.71. C'era le scatole per il gold, ieri il SWAT market avevo dato per il gold, di cui non do adesso riferimento, ovviamente avevo dato lo short qua, mannaggia a me, poi sono andato a giocare con il cane in giardino, sono arrivato e mi sono trovato un trade lasciato, regalato al mercato, vabbè, capita. DAX ci sta, perfetto, con intraday anche lo storno, quindi sono ancora comunque rialzista con le operazioni di lungo, ancora qualche giorno di possibile rialzo, anche ciclicamente, secondo me ci sta per andare ancora a cercare indicazioni al rialzo, dire che risponde in maniera perfetta alla ciclica è proprio poco, riuscirò a portare l'analisi ciclica in Italia ad avere lo stesso identico valore che ha negli Stati Uniti, ossia il 100% dell'analisi sono ciclico, 12.649.6, riguarda un ingresso, possibile studio per un ingresso al rialzo, ingresso al ribasso, non lo so, non ho idea perché è pieno di livelli in ogni dove, 12.527.5 invece è un buon livello dove andare a cercare operazioni al ribasso, perfetto ragazzi, vi saluto, vi auguro buon weekend, domani mattina alle 10, come sapete c'è l'analisi settimanale, ripeto siete invitati al webinar di questa sera, andate sul sito, iscrivetevi, è gratuito e scoprirete delle belle cose per poter lavorare l'intraday e non solo. Ciao a tutti e buona giornata, ciao ciao!